lunga 478 cm 3 in più della berlina la peugeot 508 station wagon ha un baule di 530 litri che diventano 1780 reclinando il divano non manca un portellone elettrico né una soglia di carico in acciaio più raffinate e resistente graffi di quelle in plastica elaborato frontale gioca sul contrasto fra i sottili fari full led e la mascherina con effetto 3d originali le porte che sono prive della cornice attorno ai finestrini un dettaglio rubato alle auto sportive l'abitacolo è spazioso ben rifinito e tecnologico l'i cockpit col cruscotto sopra il piccolo volante ellittico è un marchio di fabbrica per le peugeot più recenti importante ben fatta ed elegante la ricca console centrale che ospita il collaudato sistema multimediale di facile consultazione grazie alla polsantiera dedicata ai menu principali